Sconcerto e indignazione sono le prime reazioni dei pendolari del Valdarno all'esito dell'incontro fra la regione toscana, i sindaci del Valdarno Fiorentino, RFI e Trenitalia. Era noto da oltre un anno che fossero disastrosi i dati sulla puntualità dei treni regionali sulla linea Aretina, afferma il portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Dare. Già alla riunione dell'8 febbraio scorso si erano constatati i forti ritardi e i crescenti disagi. Avevamo proposto anche alcune soluzioni a cui la regione non ha mai dato risposta. È inaccettabile, sottolinea Dare, che la regione prospetti adesso la soluzione dello spostamento dei treni dalla Direttissima alla linea lenta, con un aumento dei tempi di percorrenza di ben oltre 8-10 minuti, risolvendo così le interferenze, gli inchini, dice Dare, come noi li chiamiamo, con i treni dell'alta velocità. Il portavoce del comitato è anche stupito del fatto che la regione non parli di rimborsi. A febbraio, afferma ancora, avevamo chiesto alla regione di rivedere le regole per consentire almeno i rimborsi ai pendolari, ma non ci sono state date risposte.